Noi tutti del nostro squadrone eravamo tutti quanti con le armi in mano dietro al capitano e gli altri ufficiali che invece stavano osservando col binocchio, stavano osservando appunto in quota come stavamo osservando anche noi, loro vedevano meglio, ma eravamo tutti gli impazienti in attesa di far qualcosa, riflettendo proprio su quei momenti lì che io avevo i miei ragazzi attorno, quindi eravamo in continuo contatto, se io ricordo quel momento di attesa lì è uno dei più esaltanti di quella giornata, perché li vedevo tutti quanti impazienti di entrare in compatibilità, è una cosa fantastica, è una cosa fantastica, vanno incontro alla morte, eppure erano tutti impazienti, noi eravamo lì con le armi in mano, andiamo, andiamo con lì, ma è una cosa straordinaria, finalmente il mio capitano che stava osservando, ha visto, si è rivolto al colonnello che era a cavallo, era già a cavallo perché era già pronto a caricare, si è rivolto al colonnello e ha detto ma li stanno facendo fare tutti, io vado, il colonnello gli ha fatto segno di andare e allora ha dato il famoso suo ordine, l'ultimo che ha dato quell'uomo, quarto squadrone Baionetta, abbiamo inestato al Baionetta, Savoia e via di Corsa nel fondo Balca che ci separava dalla quota.